There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 E oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video In cui andremo a fare un'altra prova a non sbadigliare Dovete sapere una cosa che lo sbadiglio è contagioso Quindi è un po' difficile guardare i video di animali o persone che sbadigliano e non sbadigliare Questa challenge non è 99,9999999999% impossibile Questa challenge è 100,37% impossibile Quindi ragazzi per questo video raggiungiamo i 20.000 like e niente cominciamo Oddio che gnoccone Oddio raga, bellissimi animali Oddio raga, vado Sto ferma Questa è una cosa che mi sembra più non sbadiglio ma un ringhio, tipo stai ringhianto No L'animale è bellissimo No No raga, vi giuro È veramente difficile È contagioso veramente Non è una leggenda il fatto che sia contagioso Vado Ragazzi è difficile È veramente difficile Vado raga che faccia Che faccia si ha dai È bellissimo Da quando i serpenti sbadigliano No 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 raga Non ce la faccio Col panda No dai Ma no raga è troppo bella Ma dove la voglio È bellissimo Gattino Gattino No No Il gatto no Ragazzi Questa è una faccia bellissima Oh Madonna raga Ho sbagliato tre volte O quattro Bene Direi che Posso dirvi sinceramente Che lo sbadiglio è contagioso Veramente Quindi ragazzi È un po' difficile guardare gli altri sbadigliare Senza sbadigliare Detto questo ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Se si raggiungiamo i 20.000 like Ragazzi Stolkratemi su tutti quanti i social Nei avete un link qui sotto nella descrizione Se non siete iscriviti 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 Un'altra volta con i più belli Ragazzi Commentate qui sotto Dicendomi Quale prova non Volete Quindi ragazzi Qui da Sivi È tutto Se avete notato Anche cambiate un po' I cartelloni C'è questo nuovo cartellone Con la lama Che Madonna Lo sto adorando E niente ragazzi Ciao 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 Ciao